Ciao a tutti ragazzi, sono Infiltrator e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Umberto e Samuele. Samuele è il mio secondo profilo visto che è a casa mia. Samuele muovite a uscire, a scegliere qualcosa. Allora, iniziamo. Ovi bello! Ma come? Ah no, perché forse due profili in una playstation contano come uno. Sì. In che senso? No, ma non sparo! In che senso? Mi spacco il culo! No, eh. Valverone, Valverone, guarda, volo via! Addio, mondo frulele! Addio! 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 Ah, fa un culo! Samuele, come ti permetti? Addio, addio! Ciao, qualcosa di bello, tipo questa! Ma è possibile che io ho lanciato la bomba e sono morto? Perché io ho lanciato la bomba e sono morto. No! Forse questa qua che è più potente di quell'altra. Guarda via! Guarda! Sì, vabbè, cos'era questo? Sì, con questo versaggio non mi batte nessuno. Sì, certo. Sì, certo. Ma arriva Petra e ti lancia un coso. Oh, no! No! Porca! Ma che casino! No! Non vedo, no! Fa un culo! Grande Samu! Grande Samu! È vero! Io sono serio, se vince Samu! Io sono serio, se vince Samu! Sì, ma loro mi vuole male! Ma te lo ti affanculo! Ma... Ma... Vieni qua! Ti faccio lo spiedo! Tu lo spidino! Vieni qua! Samu, vinci per me! Samu, vinci per me! Bene, bene! Ma io sono pizzi! Quando per te vedi, polverone? No, no! Vabbè, io sono... Cioè, le ho tirate una sberla, minchia, è volato! E ne cava, e ne cava! Che hai paura! Come si lancia un po' di... Ma magari fallo quando sei vicino a lui! Ma come si lancia un po' di... Con R... Con R1! 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 Ah! Ah! Non me lo ricordo! Non me lo ricordo! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Grande, vai Samu! Grande, vai Samu! Sìììì! Ha sbattuto il controle per terra questo! Oh, guarda che me lo ricopri dopo! Gigi! Allora, ragazzi! Curo? Cosa? Cosa? Sì vabbè è normale All'attacco a spaccare il culo Visto che Samuel ha vinto prima Adesso siamo io uberto contro il Sam Ma te ne si accorta adesso Hai vinto Ma perché io posso vincere Sono l'unico per vincere Ma te ne ho vincuto a sti miti Ma perché Oh beh ma sta grano di botte Mi spieghi come cazzo fai ad urlare così E va bene Invece sì che vale Grande umbe Fallo lo spiedo E ha perso Allora Allora ragazzi Mi sa che ho vinto io Ho vinto io Perché? Sentiamo Ho vinto Sì E' king of skrrr Che ha tanto Ma non dove va Tieni qua No non dove va Tieni qua Tieni qua Tieni qua Tieni qua E' la madonna Grande Samu Almeno ti rendi utile per qualcosa Senti Sì E' piaciuto tantissimo Sto gioco Sto gioco E' infatti guardi Sui primi video Ma non dico Ma non dico E' un attimo di tre E' un attimo di tre È un attimo Finco Spadacchino di mezzo Spadacchino di mezzo Oh Oh No 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 Lo vedi che si muove Si muove con noi Sta mappa Eh ma posso Allora, visto che io sono arrivato primo, adesso sono da solo, perchè? Raga, aspettate un attimo! Vabbè, saremmo io contro Sam No, Umberto non so dove dovuto andare Non gioca più, non gioca più Eh non lo so, non lo so che deve fare Ai, ai Si vabbè cos'era Ma c'è ancora il mio Ah no, è ritorno, sembra oltre la banoncela No, niente Sì, è vinto Aiuto Sì, è vinto! Allora ragazzi, adesso io sarò da solo di nuovo perchè ho vinto Però bellissima sta mappa Parto subito carico così Parto subito carico così No Quanto ci godo? Quanto ci godo? Vabbè Vabbè Io ti shotto male volverone Vabbè 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 Allora adesso siamo io e Umberto contro Sam Vabbè 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 come ha detto Piero Paolo per aiuto noi aiuto aiuto stanno schifo aiuto sii ti ho scassato un culo così intanto il mio canale è una femmini freandoli quindi ne puoi dire quante cazzo ne vuoi deve essere come tutti i canali ahhh ti immagini Polverone un giorno abito canale il canale sono ballato per parolacce Polverone aspettate ok controllo è di merda non domino 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 lo faccio di malta allora allora non b è stato bellissimo no no basta cosa basta vieni qua butta la toglia la toglia non ora la punta g giocci john cena o vai che rosso ammazzalo 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 lo prendo da dietro da dietro no ci penso io scadone simulato attivazione ma come ho fatto a non prenderlo non lo so nemmeno io no sono caduto si no si si iiii allora allora ah non lo so io adesso io e samu contro umberto vieni quale c'è il suo lato aspettate l'aracqua tu li sono tu li sono adesso c'è un problema sto disuato niente ma perchè non si posso fare più dei due salti non lo so non lo so e non lo so e continuerai non saperlo ecco ecco no per poco per poco per poco per poco come si muta l'acqua con l1 con l1 allora adesso dobbiamo dobbiamo combattere l'apocalisse 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 del tempo che adesso si è svegliato ma ma che chi lanci l'apocalisse l'apocalisse ma che chi lanci l'apocalisse 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 ehm no perchè perchè eh ma baffanculo allora ma baffanculo allora ma baffanculo Non ce l'ha fatta Non puoi fare più di due salti in aria Ma basta perchè è un povero orto Povero, meno male che ha detto povero Mi sono bevuto un energy drink prima Sto killando tutti Ma perchè, ma perchè Ti ha detto scusa? Ti ha detto uccide, uccide Affanculo Ma manno della pizze Ma manno della pizze Vuole, aiuto, da che mi ha saltato? Ho preso le ormi Ma perchè è un problema Da che, da che era il drink Allora, allora Adesso Samuele è da solo Ma perchè? Che cazzo di mappa è? 2 che cazzo di mappa è? 3 che cazzo di mappa è? Ma... Ma... Aiuto Perché ho un pappagallo Era un pappagallo No, perchè? Mi sembra No, ti, te lo dico Questo qua è stato un acquisto inutile 5200 sonchi spesi per una cagata quella cagata? Raiman Adesso sai che faccio Mi piace la punta Grande o un bel fallo volare Buona cosa che io ho fatto Rivalzino piccolino pompinino Pompinino ci facciamo un panino piccolino Patatina Patata Panino piccolino Ma certo che no Eccolo è risconnesso Come? Non basta Ma perché? Sì Allora Ultima partita Ma fa il culo Questa è l'ultima partita No 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 Aiuto ma Aiuto ma Aiuto ma Aiuto ma No no Perché non si possono fare più di due salti in aria In aria Ecco No 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 Ma solo Richiava il guardiano Il guardiano Il guardiano non c'è È caduto È caduto per a ma non 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 no perchè non è andato da lui no perchè non è andato da lui quel guardiano Niente Samu E quindi per oggi ragazzi è tutto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E condivete questo video Da Infiltrator Eeeh tutto Ehi tu Tu che stai guardando questo video Vuoi essere salutato da me Beh le persone che oggi saluterò Sono Nino Aiello E Somaticland6170 Allora per essere salutati Nel prossimo video dovete rispondere A questa domanda Allora fate pensare Qual è stato L'episodio In cui il prof ci ha fatto saltare un giorno Di scuola scrivete qua sotto nei commenti Da Infiltrator eeeh Tutto Grazie a tutti Grazie a tutti